E' un orgoglio per la città di Savona, l'associazione Cresci da anni si adopera per questi bambini a sostegno anche del reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona, quindi per me è un onore presentare questo spettacolo tutte star, speriamo che siano le star di oggi e anche quelle di domani. Abbiamo a questo proposito il primario dell'ospedale pediatrico del reparto di pediatria dell'ospedale di Savona, il professor Amon Cohen, al quale avrei piacere di rivolgere sicuramente qualche domanda. Seconda edizione, seconda soddisfazione. Abbiamo fatto una scelta, una settimana piena di attività sportiva non sempre agonistica, proprio per dare un segnale a tutte le società di stimolare i bambini, il mondo di domani a fare sport, proprio per la salute dei bambini stessi. Abbiamo introdotto delle attività di cultura come teatro in piazza e oggi proprio teatro dove, come hai detto bene tu, i protagonisti sono i bambini della serata. L'altro aspetto che abbiamo calcato moltissimo in questa settimana è l'aspetto sanitario, quindi in formazione sanitaria abbiamo parlato di problematiche attuali come la meningite batterica, come il papiloma virus, vaccinare, non vaccinare, tutti i dubbi che hanno le mamme e i genitori quando si arriva a fare una scelta di questo tipo. C'è una città, una provincia che pensa solo agli anziani, quest'anno ha iniziato a pensare anche ai bambini e al futuro del nostro mondo, della nostra società.